Il presidente protempore della Federazione Calcio, Battipagliese 1929, Mario Pumpo, ieri ha rassegnato le dimissioni dalla sua carica. Nonostante tanti sforzi economici, ha dichiarato, e non solo per mantenere le categorie, essendo subentrato in una situazione tecnica, economica e organizzativa, devo prendere la decisione più brutta della mia vita. Le motivazioni sono presto elencate, prosegue Pumpo, e sono il totale abbandono da parte dell'amministrazione comunale, compromesse fatte e mai mantenute da parte del sindaco e del suo staff, la totale indifferenza da parte della classe imprenditoriale battipagliese e accordi presi e non rispettati dalla precedente gestione.